Quello tra Italia e Romania è uno degli assi più floridi in fatto di scambi commerciali, ma non mancano spazi di manovra per una maggiore integrazione economica tra i due paesi. Ne è convinta l'Associazione Industriali della Sesta Provincia che alle possibilità di investimento in Romania da parte delle imprese di questo territorio ha dedicato un forum ospitato nella sala consigliare della provincia. Certo, come sottolinea il presidente di AssinPro Ruggero Cristallo, non stiamo scoprendo niente di nuovo visto che in Romania hanno già investito le grandi imprese italiane. Adesso però è scoccata l'ora anche per quelle medio-piccole chiamate affare rete non per delocalizzare, come avvenuto negli anni scorsi, ma per trasferire dalla BAT il know-how su settori specifici come quello della Pietra di Trani, ha esemplificato il presidente Cristallo. Nella BAT, ha ricordato ancora il numero uno di AssinPro, ci sono 40.000 imprese con specializzazioni nel tessile e abbigliamento che potrebbero approdare in Romania per trasferirne competenze e professionalità. Una sorta di percorso inverso rispetto a quanto fatto dai rumeni giunti in Italia sul territorio nazionale, ha ricordato l'ambasciatrice di Romania, Dana Manuela Costantinescu, ci sono 46.000 imprese create dai suoi connazionali, che sempre in Italia rappresentano la comunità straniera più popolosa, con 1.100.000 persone. Insomma, come ribadito durante il forum economico, l'asse tra Italia e Romania va solo incrementato, incoraggiando gli investimenti nel paese del conte Vlad.